Un coattone di questi proprio enormi tatuati con le catene d'oro, con la cinta borchiata, muscolosissimo, si avvicina ad un bar con un pitbull enorme al guinsaglio. Allora, prima di entrare nel bar, aggancia il pitbull fuori dal bar, entra dentro il bar e ordina un drink. Dopo cinque minuti entra in questo bar anche un tipino secco-secco, roscio, mezzo pelato, vestito con apologo, due braccine secche-secche, gli fa sto coatto. Chiedo scusa, signore, ma è lei il proprietario del pitbull che sta qui fuori? E questo, sì, so io il proprietario del pitbull che sta qui fuori, perché? Che problema c'è? E sto tipo secchetto, chiedo scusa, devo informarla che il mio cane ha ucciso il suo. E sto coatto, sì, vabbè, mor cane tuo ha ucciso il cane mio, ma perché scusa? Che cane c'hai? E sto secchetto, è veramente, io c'ho un chihuahua. E sto coatto, ah ah ah, e beh, è che un chihuahua avrebbe ammazzato il cane mio. E sto secchetto, guardi, mi sa che gli ha nato per traverso. Ho, 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 ho.